Amici di Weekend Dance siamo ritornati da Punto Zero in via Dante 49 nel cuore di Secondigliano in provincia di Napoli perché il presidente Giuseppe Leone mi ha invitato e tramite Francesca presenteremo naturalmente la nuova collezione estiva Punto Zero 2017. Benvenuta. Buongiorno Dino. Tutte le novità di questa estate. Sì, le novità sono davvero tante per questa nuova collezione. Abbiamo tantissimi abiti da cerimonia da mostrare al pubblico. I modelli più richiesti sono i toppe gonnelloni che possono essere a tinta unita oppure a fantasia e abiti ampi in micado che devo dire la verità fanno sembrare le ragazze delle vere e proprie principesse. Francesca, quali sono i colori dell'estate della collezione Punto Zero? I colori per quest'anno sono il blu, il rosso, l'oro. Abbiamo anche tantissime fantasie però. fantasie che vanno anche nel viola, nel rosso, nel blu cobalto, nel giallo. Tantissimi colori per voi. E per le damine? Abbiamo anche un vasto assortimento di damine, colori a tinta unita, modelli diversi. Colori sono rosa, rosso e blu. You are my sunlight, my never-ended passion, the greatest storm of the universe. You turn me on my sweet baby, but don't change one half of me. I need you always by my side. Stay so close to me, my sweet heart. Life is now Quanto è difficile scegliere un abito? Abbastanza difficile a decidere quello giusto. Tu sei napoletana? No. Di dove sei? Sono rumena. Rumena, quindi c'è sempre l'imbarazzo della scelta perché sono tutti belli gli altri. Ma io so per tutte le donne che sia abbastanza difficile scegliere quello giusto. Ognuno ha la sua bellezza, basta che certamente i gusti non sono uguali per tutte le donne. Quindi c'è gusto ma anche convenienza come prezzo d'acquisto, no? Certo, certo. Da punto zero si possono acquistare abiti per cerimonie particolari. Lei per esempio a giorni o a ore compirà 18 anni. Sì. E questo è il regalo di tu 18 anni? Sì. Chi te lo fa? Il regalo di genito, i peri figli, insomma ti sta benissimo, un bel colore. Che cosa ha di particolare? Perché proprio quest'abito hai scelto? Perché mi piacciono le trasparenze che porta. Poi non lo so, è un abito che mi ha colpito molto. Questo è un colore bellico, è un cobalto? Cobalto, sì. Come mai hai scelto questo colore? Perché è un colore molto allegro, estivo, bello. Insomma, il tuo punto di riferimento per l'acquisto di abiti è punto zero. Esatto, perché ha una ricca scelta di vestiti, perché ci sono delle cose particolarissime e quindi per coronare il mio sogno ho deciso di venire qua. E poi c'è anche la convenienza del prezzo, no? Assolutamente, anche la convenienza di prezzo, sì. Viva l'estate e viva il cobalto! Viva il cobalto, sì. Un saluto a Weekend Dance da... Punto Zero! Viva l'estate e viva l'estate! Francesca, punto zero non è soltanto abiti da cerimonia? Assolutamente no, punto zero è anche abiti da sposa. Abbiamo abiti da sposa di qualsiasi modello. Ovviamente i più richiesti sono il sirena in saten con le sue profonde scollature, con le maniche lunghe, ricco di cristalli. Modello principesco ovviamente che è il classico intramontabile. Non bisogna però tralasciare tutti gli altri modelli, come per esempio quello scivolato, stile trapezio, tanti altri comunque. Abbiamo abiti per tutte le richieste delle future sposo? Assolutamente sì, abbiamo abiti di qualsiasi tipo, per soddisfare qualsiasi richiesta di tutte le clienti. I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. Collezione estate 2017 da punto zero Francesca è un abito fantastico. Questo è davvero un abito fantastico, fa parte della nostra nuova collezione ed è un corpetto separato dalla gonna. È ricco di cristalli, è in micado, a sirena e per quanto riguarda i colori sono dei colori bellissimi, molto estivi che vanno nel blu e nell'azzurro. Veramente bello. Veramente bello. Come ci si sente in questo abito? Avvolto dal mare, dal colore azzurro, dal cielo, dalle nuvole. Benissimo, in realtà mi sento molto a mio agio, mi piace questa linea sirena, ricca di colori, mi piace la fantasia, il corpetto, amo il corpetto tutto lavorato, pieno di cristalli, mi ci sento benissimo. Viva l'estate. Esatto, viva l'estate. Io mi rivolgo anche alle clienti che sono naturalmente in visione. Se acquistate un abito da punto zero e c'è da fare un aggiusto, una modifica, c'è anche un settore sartoria. Certamente Dino, abbiamo una sartoria e sarte altamente qualificate che si mettono a completa disposizione del cliente, sempre. Il cliente fino alla cerimonia non viene mai abbandonato. Se c'è qualche aggiustino, qualche modifica da fare sull'abito acquistato, ci pensate voi in sartoria? Assolutamente sì, qualsiasi tipo di aggiusto può essere effettuato, senza problemi. Francesca, prima di salutarci diamo le indicazioni importanti. dove si trova punto zero, come raggiungervi, come prendere un appuntamento. Insomma, sono tante le spose e non solo, anche per chi deve fare cerimonie particolari come i 18 anni, un quarantennale, un celibato, un nubilato. Cioè, qui si trova di tutto. Qui si trova di tutto e soprattutto c'è un ottimo rapporto prezzo convenienza. Abbiamo infatti abiti da sposa che partono dai 350 euro, da sposo che partono dai 180 euro e soprattutto abbiamo cerimonia che parte dagli 80 euro. Ecco, queste le indicazioni fondamentali. Siete in via Dante 49 a Secondigliano? Sì, ci troviamo nel centro storico di Secondigliano, in via Dante 49. Siamo aperti da lunedì al sabato con orario continuo dalle 9.30 alle ore 20. E allora, alla prossima da punto zero per impreziosire con i colori, con i design, con lo stile, con gli abiti, naturalmente, tutte le richieste. Siamo qui per voi, sempre punto zero, punto e basta.